La ricostruzione post-sisma dell'Istituto Musicale Braga di Teramo riceve un importante impulso con l'aumento di fondi stanziati per il recupero della sua sede storica. Durante la riunione della cabina di coordinamento per l'emergenza nel centro Italia tenutasi ieri mattina, il commissario per la ricostruzione, Guido Castelli, ha annunciato l'approvazione di un incremento di 3,3 milioni di euro. Questo edificio, che prima del terremoto aveva ospitato per anni l'Istituto Musicale Braga, ora è stato sgomberato a causa delle gravi lesioni riportate durante il sisma. Con l'aumento dei fondi il finanziamento totale destinato al restauro dell'immobile e della vicina chiesa sconsacrata di San Giovanni raggiunge ora i 9,5 milioni di euro. Finalmente penso che ormai siamo proprio allo start, al punto di partenza, dopo anni inizia questo restauro della nostra gloriosissima sede e spero che i tempi saranno quelli previsti circa tre anni per poter poi rientrare definitivamente nella nostra sede storica meravigliosa. Una volta terminati i lavori, la struttura sarà nuovamente a disposizione degli studenti e del personale del Braga, segnando un passo significativo verso il recupero culturale e sociale della città. La gara d'appalto per i lavori sarà indetta a breve, la durata prevista per il completamento dell'opera è di 30 mesi. L'intervento rappresenta un tassello cruciale nella costruzione dell'area di Piazza Verdi, che è oggetto di un più ampio piano di rigenerazione urbana, già in corso con i cantieri aperti per il mercato coperto e teatro romano. Una riqualificazione molto importante che andrà anche ad ampliare la vecchia sede. Esatto, rispetto al passato avremo la disponibilità di tutta la struttura, di tutto il convento, anche la parte che una volta era occupata dall'asilo e dal centro anziani, quindi prenderemo tutto. C'è un bel progetto al quale abbiamo dato delle piccole indicazioni anche noi per le nostre esigenze naturalmente e diventerà un polo molto importante per il Braga ma soprattutto per la città.